Il contributo di bonifica è legittimo e va pagato. La sentenza emessa pochi giorni fa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo respinge il ricorso presentato dal Comune di Arezzo e conferma la piena legittimità della richiesta del Consorzio 2 Alto Valdarno. Così canta a vittoria con una nota stampa il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno nella quale si sottolinea che l'aspetto più importante riguarda il riconoscimento da parte della Commissione della piena legittimità del contributo che peraltro per il Comune di Arezzo si aggira intorno ai 50 mila euro. La vicenda risale al 2014 quando l'amministrazione comunale aveva impugnato tre avvisi emessi dal lente consortile su altrettanti immobili di proprietà comunale. L'epilogo è stato scritto in questi giorni, legittima per i giudici la modalità di calcolo del beneficio tratto da ciascun immobile che insiste sul perimetro di contribuzione basata sull'applicazione di indici idraulici ed economici concreti e determinati scientificamente dal legislatore regionale. La sentenza recita infatti che all'inclusione del fondo entro il perimetro di contribuzione alla relativa valutazione nell'ambito del piano di classifica consegue la qualità di consorziato come tale e in quanto tale obbligato a contribuire agli oneri per le opere consortili. Francamente io non mi ero fatto falsi illusioni anche perché poi quando si va a parlare di norme ci sono sempre interpretazioni molto labili, molto... Se l'hanno fatto quando avevano il cavillo... Probabilmente, probabilmente sì.